big data big problem in quanto la concentrazione di dati in un unico luogo è sicuramente una delle cose più appetibili per quello che è il cybercrime 3micro ha fatto attenzione e ha curato molto quello che è l'evoluzione dei suoi prodotti per dare sistemi di protezione attuali e validi per questo tipo di problematica abbiamo un prodotto ad hoc per i sistemi di virtualizzazione che sono la base poi su cui si appoggiano tutti i sistemi di big data big analytics e abbiamo un sistema di criptografia proprio specifico per questo tipo di situazioni quindi di big data o comunque sia di storage del dato in the cloud che garantisce la sicurezza del dato all'utente in quanto la chiave di criptografia potrebbe non essere in mano al provider che gestisce il servizio stesso ma può essere in mano a un terzo o al cliente stesso la protezione che offre 3micro nell'ambito dei sistemi virtuali quindi quei sistemi che sono la base della dei database che poi gestiscono questi big data big analytics viene effettuato a livello di hypervisor quindi è molto più efficiente ed efficace lavorando allo stato basso dei sistemi di virtualizzazione che gestiscono il big data perché scegliere 3micro per proteggere big data perché 3micro è stata la prima azienda a utilizzare il concetto di big data per offrire la protezione ai propri clienti sin dal giugno del 2008 abbiamo rilasciato la nostra smart protection network che appunto un sistema di big data che offre protezione ai nostri clienti quindi come primi utilizzatori di questa tecnologia abbiamo manuturato in questi sei anni una grossa esperienza per la protezione di questa tipologia di dati e di questi database e quindi abbiamo poi trasferito questa nostra esperienza diretta nei nostri prodotti quindi 3micro oggi è in grado di offrire una protezione completa e rapida per i big data quindi garantiamo la sicurezza del cliente garantiamo la riservatezza del dato del cliente e garantiamo una fruibilità di questi dati in maniera ottimale Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!